Allora, facciamo un altro braccialetto molto elegante con elastici neri e fiorellini. Allora, sparte sempre lo stesso modo, si iniziano quindi con una di queste e così, ecco qua, poi ne mettiamo un altro, mettiamo, sono uno, sono due, mettiamo una sequenza di tre, ma sempre agevole, allora, questo è il quarto. Allora, dopodiché lasciamo un attimo qui il nostro, prendiamo un elastico e ci mettiamo dentro, infiliamo la nostra perlina, in questo caso il fiore. Riacchiappiamo qua, vedete che ruolo, dobbiamo incassare dentro, così, e la prendiamo sopra. Ecco fatto, perché facciamo come sempre. Ci si ripete praticamente la sequenza, stando attenti a non fare pasticci, vedete, che è facile farli, eh? In realtà l'abbiamo fatto il pasticcio, perché l'abbiamo chiuso, adesso, e invece non volevamo chiuderlo al mattinillo aperto, anche se in realtà si potrebbe lavorare anche tenendolo chiuso. Allora, ripartiamo, eh? A me è gevolissimo lavorarli, eccoci così, no? Allora andiamo al punto Uno, due, tre, quattro, cinque Facciamo la nostra E si va avanti così Finché non abbiamo fatto la misura del nostro braccialetto Grazie Allora è quasi finito il nostro bracciale Come vedete L'abbiamo fatto abbastanza lungo Per poter fare un doppio giro Allora si termina Sempre allo stesso modo L'ultimo E si fa così Si chiude Prendiamo il solito elastico Si taglia E si fa il nodo Ecco fatto Così Prendiamo il nodo Ed ecco finito Vediamo E' pronto Per essere indossato Vediamo l'effetto finale Eccolo qua Il nostro bracciale Vedete come è venuto Un po' simpatico Eccolo